Buon pomeriggio e bentornati a questa nuova edizione pomeridiana di TR24 Sport. In apertura il calcio sono giorni di bollente attesa per il Cesena. I bianconieri attendono il parere positivo dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la ristrutturazione del debito per poi imbastire la prossima stagione. Il tempo però stringe. Le nubi dell'Agenzia delle Entrate alleggiano ancora sul Cesena. Il parere positivo dell'erario ancora non è arrivato sulla rottamazione del debito e per forza di cose la fase di stallo. Se da una parte il club di Corso Sozzi ha già raggiunto con fornitori, banche e privati un accordo sul pagamento dei debiti, per circa 32 milioni verso lo Stato ancora il cavalluccio Brancola nel buio. Tutti si sono messi a disposizione, ha dichiarato il presidente Lugaresi, perché il Cesena continua a vivere e a saldare i debiti segnati in bilancio. Se l'Agenzia delle Entrate continua al numero uno del club e non lo facesse per tempo, non prenderebbe più un euro o forse solo qualche spiccio. La realtà dei fatti è proprio questa e ormai arrivare al 30 giugno, giorno per presentare l'iscrizione alla prossima Serie B con tutte le carte in regola, si fa sempre più difficile. La speranza è che la faccenda si sblocchi entro la fine di questa settimana, altrimenti dopo il 30 giugno rimarrebbero poi ulteriori 12 giorni per avere le carte in regola e pensare alla stagione 2018-2019 sul campo. Il terreno di gioco ora è un altro e in caso di fallimento, con la campagna abbonamenti aperta, i tifosi che hanno sottoscritto il nuovo patto di amore col Cesena sarebbero rimborsati. Lugaresi e tutto il Cesena tengono le dita incrociate, perché chi ci lavora da molti anni aspetta fiducioso. Con la vittoria di venerdì sera contro il Portogallo per 3-0, la nazionale femminile di calcio ha conquistato l'accesso diretto ai mondiali del prossimo anno in Francia. Per la CT Milena Bertolini, la nazionale maschile fuori dei mondiali di Russia ha dato più visibilità alle donne. Vediamo. A me dispiace tantissimo che loro non siano andati e è chiaro che per noi a livello mediatico è stato un vantaggio, perché il fatto che la nazionale maschile non sia in Russia, mentre noi nel momento in cui iniziano i mondiali là ci qualifichiamo per Francia 2019, ha spostato l'interesse sul calcio femminile e devo dire che da questo punto di vista ne sono molto felice. Una qualificazione storica, quella femminile, che arriva dopo un'attesa di 20 anni e che è frutto però di un lavoro intenso fatto negli ultimi mesi proprio dal nuovo commissario tecnico, Milena Bertolini, che sabato era a Rimini per parlare del lavoro svolto davanti agli allenatori italiani presenti a The Coach Experience. Un lavoro fatto soprattutto a livello di mente, trasformando una squadra più difensiva in offensiva. La qualificazione arriva alla fine di un percorso caratterizzato da sette vittorie in altre tante partite e che può permettere al movimento femminile del calcio di crescere di più come avviene da tempo negli altri paesi. Vincere aiuta soprattutto perché porta all'interesse dei media e chiaramente più tu mandi messaggi positivi, in questo caso sulle ragazze che giocano a calcio, sicuramente vai a incidere anche sul pensiero collettivo, sulla voglia delle bambine di iniziare, su anche l'interesse da parte del pubblico. Quindi credo che questa vittoria possa aiutare a lanciare questo movimento che ha tante potenzialità. La giovanile Rimini ha visitato lo stadio Camp Nou in attesa del gran finale della Barcelona Professional Cup contro le Spagnole e i Blaugrana. Una giornata ludica e divertente in cui tutti i ragazzi hanno potuto visitare la città catalana. Siamo qua al Montjuic, guardiamo Barcellona dall'alto, però soprattutto nel Barcellona Football Club siamo entrati, abbiamo visto la realtà catalana. Dopo che hai conosciuto dal vivo quella che è la squadra catalana, ti rendi conto che andrai a giocare contro il Barcellona? Io ancora non ci credo perché è un sogno che si sta realizzando, penso che tutti vorrebbero stare al posto mio e al posto nostro in questo momento. È una società mostruosa, il Barcellona, abbiamo visto una struttura, penso, stupenda. E cos'è la cosa che ti ha colpito di più, di entrare in quell'ambiente? Beh, la professionalità di quel posto, c'è tutta un'altra area in quell'ambiente. Ora, noi non vogliamo togliere niente le nostre maglie della giovanile Rimini, però hai sentito la maglia da 165 euro con il tessuto dei giocatori, la differenza che c'è? Ha indossato Leo Messi, mi chiamava Marco Gionnetone. Va bene, direi che è una risposta molto appagante. Passiamo ora sul nostro portale TR24.it con una notizia sulla palacanestro. Antimo Martino lascia l'ora si Ravenna e si accasa alla Fortitudo Bologna. La notizia della separazione dal club giallorosso è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri dopo la risoluzione del contratto. Nelle ultime quattro stagioni, coach Antimo Martino ha ottenuto importanti risultati al basket Ravenna, portando la squadra alle semifinali playoff di Serie 2 nella stagione 2016-2017 e quest'anno alla finale di Coppa Italia. Ora si apre la nuova avventura con i colori della F in Serie 2 per il tecnico di Isernia, che rileva Gianmarco Pozzecco uscente. Passiamo ora al tennis, parliamo di doping. Duro colpo per Sara Errani, la tenista bolognese, è stata infatti trovata positiva a una sostanza illecita e condannata a 10 mesi di squalifica. Il punto. 10 mesi di squalifica per un tortellino avvelenato. Questo è quanto dovrà scontare la tenista Sara Errani, che nella giornata di lunedì è stata riconosciuta colpevole dal Tribunale antidoping che le ha imposto lo stop fino all'8 febbraio 2019. La vicenda parte già dall'agosto scorso, quando la tenista bolognese era stata trovata positiva all'Etro Zolo, un inibitore che rientra tra le sostanze proibite della Vada. Per questo motivo l'Errani era già stata condannata a due mesi di squalifica, pena tuttavia giudicata troppo lieve dalla NADO, l'associazione italiana antidoping, che ha avuto ragione in Tribunale rifilando questa nuova pesante mazzata alla tenista emiliana. Un Tribunale indipendente, nominato ai sensi del programma antidoping, si legge nel comunicato, ha rilevato che Sara Errani ha commesso una violazione del codice e di conseguenza le ha tolti i risultati conseguiti tra il 16 febbraio e il 7 giugno, con conseguente perdita dei punti in classifica e dei premi vinti. L'Errani, che aveva già scontato i precedenti mesi di squalifica, si vede ora quintuplicata la pena e dovrà anche versare 4.000 franchi svizzeri come risarcimento alla NADO. Già subito dopo il provvedimento della scorsa estate, l'atleta si era difesa sostenendo che l'Etro Zolo non è una sostanza che migliora le prestazioni sportive e che in ogni caso non era stato assunto volontariamente. Sono stata sanzionata per indigestione involontaria di cibo contaminato, ha dichiarato Errani, non so come sia successo, l'unica risposta che posso darmi è quella di aver ingerito un tortellino contaminato. Andiamo ora a visionare i principali quotidiani locali sportivi, cominciamo dall'arresto del Carlino che apre con le parole di Dino Zoff. Ecco la mia Italia-Germania, al V mondiale senza Zurri, l'ex capitano e grande tifoso di Formula 1, Vettel Emington ci regalerà un'estate da brivido. In spalla il tennis, stangate Errani, 10 mesi di squalifica, mentre per il calciomercato Juve, Di Bala o Higuain, uno parte, Mirabelli Gattuso, Missione Mosca, i bianconeri cercano l'iguità per Milinkovic, Savic, Roma, Klaivert, Firma. Andiamo ora a vedere invece il Corriere di Romagna che dà ampio spazio al Cesena Calcio, appunto in Serie B. Cesena sarà l'estate più calda di sempre, anche ieri nessuna risposta, dall'Agenzia delle Entrate il futuro bianconero destinato a decidersi questa settimana, mentre per il motociclismo Alessandro Delbianco in spalla un altro tarento made in Romagna. Andiamo ora ad ascoltare l'opinione di Luciano Poggi. E' certo che questa risposta, l'erario o l'Agenzia delle Entrate, la fa proprio soffrire al Cesena Calcio. Non arriva il sì dell'Agenzia delle Entrate, anche se bisogna tenere in considerazione, e questo era il trampolino, in un certo senso, dal quale partiva il mio ottimismo, anche se nel corso dell'udienza in Tribunale l'Agenzia delle Entrate, presente con i suoi tre funzionari, non aveva trovato nulla da eccepire. Aveva detto che la presentazione che aveva fatto il Cesena non aveva contraddizioni di nessun genere. E questo ovviamente è stato verbalizzato. Ora invece la risposta non arriva. E il Cesena ovviamente è lì che freme. Perché? Perché è chiaro, se non arriva la risposta dell'Agenzia delle Entrate, per il Cesena è la fine. E poi si dovrà eventualmente ricominciare tutto da capo. Però io sono convinto che la risposta, appunto, ne ho detti i motivi, arriverà e arriverà positiva. Solo magari la faranno davvero aspettare questa risposta i funzionari per tenere sul chi va là tutto il Cesena. E magari la daranno all'ultimo secondo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti per lo sport. Ricordo che per ulteriori informazioni rimane sempre disponibile il nostro portale teare24.it e i nostri canali social Facebook, Twitter e Youtube. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.